amici di passione tennis bentornati sul canale sono veramente lieto molto molto lieto che la prima live di una partita di tennis che abbiamo seguito insieme nella live andatela a vedere se volete recuperarla abbiamo seguito in live solo il terzo e decisivo set però ha portato bene alla nostra italiana lucia bronzetti che vince il suo primo titolo wta 250 in quel di rabat succedendo nell'albo d'oro a martina trevisan che quest'anno si è fermata ai quarti di finale non ha potuto difendere il titolo per un infortunio ma speriamo nulla di grave perché adesso dovrà andare al rolanda rossa a parigi a difendere la semifinale quindi lì sono veramente punti importantissimi lucia bronzetti quindi che dopo la finale persa l'anno scorso a palermo dalla begu in due facili set quest'anno fa un'altra finale la sua seconda finale in carriera ma questa la vince la vince facilmente se avete seguito la live sicuramente no perché vince il primo set 6-4 contro l'austriaca graber che è un ottimo talento però se non è tra le prime dieci del mondo un motivo c'è la graber che comunque fa sì bellissimi punti sa giocare chiaramente una tennista che si adatta benissimo alla terra rossa sicuramente la sua superficie mi piace giocare molto in top fare palle corte eccetera eccetera colpi molto arrotati comunque di base e comunque aggressiva eccetera però sbaglia tanto infatti la bronzetti vince 6-4 il primo set proprio perché la grabber sbaglia tanto stava per vincere anche il secondo set se non che mentre serviva per il secondo set su match point insomma perde il servizio non sfrutta il match point e sul 5 pari e la grabber inizia a prendere fiducia inizia a giocare manco fosse federer e lì la bronzetti perde di lucidità di fiducia fino al 3 a 1 nel terzo set per la grabber che stava servendo per il 4 a 1 lì lucia riprende in mano le redditing del gioco aiutata anche da qualche dritto sbagliato dell'austriaca e quindi fa il contro break tiene servizio e ribrecca ancora l'avversaria va a riservire per il match dopo essersi già stata a quel punto nel secondo set e viene ribrecca un'altra volta se non che nel turno successivo di servizio della grabber lucia ribrecca per l'ennesima volta la grabber e arriva a riservire un'altra volta per il match perde il primo punto dell'ultimo game però da lì inizia da formiglina ad arrivare al match point e questa volta il match point lo vince e porta a casa il torneo e quindi il titolo quindi brava lucia che era uscita prima di questa finale dalle prime cento giocatrici da blu tie con la finale era rientrata al numero 73 in 100 vincendo la finale va al numero 65 quindi va molto vicino al suo best ranking che il numero 50 e che dire sono molto felice per lucia ci ha messo il cuore ci ha messo tutto ed era giusto che almeno una delle due finale la vincesse insomma del del wta di un wta 250 solamente se ne è meritato tutto sappiamo che insomma la regione di cui lei è nativa non se la sta passando benissimo e quindi un piccolo perché se non sbaglio e di rimini non vorrei dire gastronerie però e controlliamo subito tanto è esattamente 10 dicembre 98 e di rimini quindi sono doppiamente contento ovviamente come fatto già nella live di ieri del salottino un abbraccio a tutti quelli dell'emilia romagna e insomma una vostra figlia diciamo una figlia dell'emilia romagna oggi ha coronato un sogno ed era giusto ed era giusto doveva vincere lei dai doveva vincere lei poi ringrazio tutti quelli che hanno seguito la live del salottino ieri sera tutti quelli che mi hanno scritto nel video di ieri che era un video un po' sfogo un po' no insomma mi avete ridato fiducia e voglia di rifare i video e forse questa vittoria con live commentata in live il terzo set su questo canale è stato di buon auspicio diciamo così bene ragazzi sta per iniziare il Roland Garros ormai domani si inizia c'è già Sonego che giocherà domani e l'ennesima sfida la l'ottava sfida fra la Giorgi e la Corni Sonego sarà vedrà con lo statunitense che adesso come sempre mi sfugge il nome porca miseria un attimo che lo recuperiamo subito a c'è anche Arnaldi Galan giocano gioca domani a Sonego scelto ecco lo statunitense scelto musetti contro Imer e quindi ragazzi domani già si parte alla grande con il Roland Garros quindi io vi chiedo come sempre per supportare questa tipologia di video iscrizione al canale lasciate like e commentate ad un prossimo video au revoir eh sì siamo a Parigi au revoir